Non c'è ancora nessuna comunicazione ufficiale sulla chiusura della stazione dei carabinieri di Spezzano Sile in provincia di Cosenza, anche se la voce che circola sempre più insistentemente dopo la nota dello scorso 21 maggio da parte della prefettura dove se ne annunciava la soppressione che il provvedimento dovrebbe essere una cosa imminente. Una decisione che il sindaco del comune presilano Salvatore Monaco, come ormai risaputo, si rifiuta ad accettare, come dimostrano le rimostranze avvenute nei giorni scorsi e come ha fatto in queste ultime ore appellandosi attraverso una lettera inviata a tutti i rappresentanti istituzionali carabresi. La decisione, lo ricordiamo, è maturata in seguito alla istituzione del vicino comune di Casari del Manco, nato dopo un referendum che ha accorpato i comuni di Spezzano Piccolo, Casole Bruzio, Trenta, Pedace e Serapedace. La notizia della chiusura della stazione dei carabinieri ha suscitato stupore e preoccupazione tra la cittadinanza e quanto viene dichiarato nella missiva dal primo cittadino rivolgendo a tutti i parlamentari carabresi regionali e nazionali, atteso che ha sempre rappresentato un importante presidio di legalità. Ed è anche vero, prosegue la nota, che sul nostro territorio e più precisamente presso la frazione di Camigliatello Silano vi è un'altra stazione dei carabinieri ed è caratterizzata dalle diverse problematiche di un territorio vastissimo, quale l'Altopiano Silano, dove peraltro sono attivi anche alcuni centri di accoglienza straordinari per migranti e i flussi turistici in alcuni periodi dell'anno superano anche le 30.000 presenze con evidenti ripercussioni sulla possibilità per gli stessi carabinieri di assicurare un'adeguata tutela della sicurezza dell'ordine pubblico anche nel distante centro cittadino. L'amministrazione comunale nei mesi scorsi ha avuto anche un incontro con i vertici del comando provinciale dei carabinieri, offrendosi di farsi carico del canone attualmente sostenuto dall'arma pur di non veder chiudere la stazione, individuando anche uno stabile che metterebbe a disposizione dell'arma dei carabinieri, ossia la ex scuola materna. Appunto per questo il sindaco Salvatore Monaco, appellandosi a tutta la deputazione regionale e calabrese di tutti i partiti, chiede un loro intervento per scongiurare la chiusura della stazione dei carabinieri di Spezzanosila sulla scorta di un'attenta valutazione legata alla primaria esigenza di rafforzare la presenza dello Stato in un territorio come la Calabria che ha bisogno di messaggi rassicuranti e che da sempre considera l'arma un imprescindibile punto di riferimento per la comunità.